Il tecnico della Vispesaro per commentare questa partita, giocata bene dal Pescara, avviso aperto dalla Vispesaro, ha avuto meglio la qualità dei biancazzurri, è d'accordo? Sì, è assolutamente così. Noi tre giorni fa abbiamo fatto una partita a livello nervoso veramente importante a Cesena, purtroppo non avevamo raccolto punti, siamo arrivati qua oggi, sapevamo che non era facile andare sotto dopo dieci minuti su un calcio d'angolo, un episodio del genere sicuramente ha destabilizzato un po' la convinzione dei ragazzi, però poi ho visto la squadra che ci ha creduto, ha provato soprattutto all'inizio del secondo tempo a rientrare nella partita, forse è il nostro momento migliore, il Pescara ha fatto il 2-0, poi è andato in controllo, una squadra importante che anche quando il ritmo è basso riesce a esprimere qualità. Noi ci abbiamo provato fino alla fine, provato con i cambi a destabilizzare qualcosa, però oggi non è bastato. Nel primo tempo io ho visto che avete sofferto molto, quando provavate ad alzarvi, però il Pescara recuperava palla, un tocco e via con i suoi centrocampisti e i suoi esterni offensivi, riusciva ad arrivare in area di rigore. I tre attaccanti, i due attaccanti esterni erano troppo aperti e nessuno dei giocatori in costruzione riusciva a trovare quella giocata lì di fianco a Derisio, che poteva essere pericolosa e quindi gli intercetti poi arrivavano a Pompetti, arrivavano a Clemenza, giocate di qualità, però all'inizio anche troppi retropassaggi indietro verso Farroni, non siamo stati così coraggiosi, ma perché ripeto, un pochettino di stanchezza mentale, ricaricare le energie non è facile, giocando con questa densità di gare e soprattutto anche perché noi avevamo sei giovani in campo, giocato in squadra giovane, questo tipo di esperienze servono per far crescere i ragazzi. Le chiedo un'ultima cosa, le chiedo perché se non erro l'ha affrontato il Cesena 72 ore fa, giusto? Il Pescara fa la corsa sul Cesena per l'obiettivo minimo del terzo posto, perché oramai Modena e Reggiana sono andate via. Mi fa un paragone, un raffronto? Ma dunque io penso che il Cesena dal punto di vista della qualità sicuramente ha qualcosa in meno, però sono due linee difensive completamente diverse, penso che la differenza la faccia questa, la faccia questo, il Pescara se non sbaglio con oggi è la sesta volta che fa clean sheet e forse per stare in classifica in alto sono un po' troppo pochi, Cesena invece è una squadra che spesso e volentieri non prende gol e davanti sono due attacchi comunque stratosferici e penso che se la giocheranno fino alla fine per il terzo posto.